Buongiorno ragazzi, oggi sono un cercatore, perché noi del partito meridionalista non siamo solo quelli con i colletti bianchi, siamo anche quelli che si sporcano le mani di terra, di sudore della fronte, perché noi siamo ancora il popolo, e come il popolo? Il popolo del sud, il migliore che ci sia, popolo di grandi lavoratori, buone di cuore, però a questo punto bisogna cominciare a diventare cattivi. Sì, lo so, è da tanto tempo che ci vediamo, oggi sono venuto a fare un po' il cercatore sulla collina di Bodromagno, vorremmo vedere se c'era un po' di ruca o altre cose, ma a quanto pare le pecorelle si sono mangiato tutto, e vabbè hanno il diritto di vivere pure loro. Senta, oggi vi voglio parlare del partito meridionalista, il perché esiste, qual è la sua funzione, qualche altro, perché se ne dicono tante, poi ci sono stati tanti detrattori interni che credevano di fare le loro cose alle nostre spalle, noi non siamo quei politici, non siamo quel partito, siamo il partito del popolo, al servizio del popolo, non al servizio nostro. Vi voglio spiegare una cosa, il partito meridionalista nasce, per volere, di diversi gruppi, dagli Abruzzi alla Sicilia, per volere unirsi e combattere, avere quindi un fronte comune, combattere politicamente naturalmente, un fronte comune verso quest'Italia che ci sta massacrando, il sud è massacrato, sotto tutti gli aspetti, non vogliono farci crescere, ci obbligano solo a pagare le tasse, per loro, ma per il sud non c'è mai niente. Allora, prima di tutto voglio spiegarvi come funziona il partito meridionalista. Il partito meridionalista non è un partito formato da alcune persone che si sono messe in testa oggi, creiamo il partito meridionalista, così tanto perché non abbiamo niente da farlo, facciamo un altro partito in mezzo a tanti partiti. No, non è così. Come ho detto prima, è una serie di gruppi e partiti già preesistenti sul territorio che hanno deciso finalmente di mettere da parte ogni bega locale l'uno contro l'altro e unirsi e creando quindi il partito meridionalista. Il partito meridionalista è creato dalla fusione di diversi movimenti e partiti politici già esistenti nel sud Italia. Come vi dicevo prima, nasce a Pretore il 24 agosto, anche se il 24 agosto qualcun altro ha tentato di metterci in cattiva luce facendo qualche altra cosa. È un problema suo, lui voleva vendere libri e ha pensato di inventarsi questo partito. è solo problemi suoi, a noi non ci interessa. Quindi nasce a Pretore il 24 agosto, però la firma dello statuto viene fatta a Marsala a fine anno, poco prima del lockdown. Perché a Marsala? Da Marsala, quasi 160 anni fa, nasce alla fine del sud. Se qualcosa di riborbon ci rendeva una schiava, tutte quelle chiacce da là, lasciamo stare. Stavamo bene quando loro dicevano che non stavamo peggio, invece non stavamo meglio di quelli che stavano bene, ma dicono di stare peggio. Sembra uno scioglilingua, però alla fine è così. Chi ci denigra è perché ci invidia. Tutt'oggi. Perché il sud è ricco, signori miei. Abbiamo petrolio, eolico, sole, natura. E come mai è un paese ricco che produce, però allo stesso tempo è povero? E' un controsenso. E perché è povero? Perché il nord assorbe. Assorbe la nostra ricchezza. Ce l'assorbe e ci colpevolizza, mascherando la cosa come se fossimo noi i parassiti del nord. Ma il nord lo sa che se il sud smette di lavorare il nord è finito. Se il sud smette di comprare quello che produce il nord, il nord è morto. Già oggi l'intera Italia viene classificata il sud d'Europa. Figuriamoci se un domani non riuscissimo eventualmente a staccarci dall'Italia del nord. Che cosa diventerebbe il nord? Tornerebbe a quello che era prima. Misera. E senza futuro. Perché il futuro del nord, il futuro di tutta l'Italia, proviene dal sud. Ed è qui la ricchezza. Quindi perché il partito meridionalista si unisce anche ai partiti siciliani? Ed è disposto anche a collaborare con chi non si è voluto unire fisicamente ma vuole collaborare. L'importante è raggiungere il fine comune. Allora, immaginate un po'. Le regioni del nord, che sono cosiddette a statuto speciale, non sto qui a elencarvi qui, se non facciamo notte. Sono regioni il cui presidente di regione prende quasi 1.800.000 euro all'anno. Quindi anche la Sicilia dovrebbe essere così, perché è a statuto speciale. E invece no. Il presidente di Sicilia, avendo anche un Parlamento e tutto il resto, prendono sì e no 600.000 euro all'anno. E come mai? Eppure le regioni del nord, a statuto speciale, contrattano con l'Italia a pari, a pari proprio. La Sicilia contratta da succube dell'Italia. Da succube. Qualcosa non quadra. Andiamo a scoprire qual è. Lo statuto siciliano, signori miei, non è stato mai approvato. E quindi il partito meridionalista, a questo punto, uno dei primi principi statutari del partito meridionalista è far attuare assolutamente lo statuto siciliano. E qualcuno direbbe E come mai? A che serve a quelli di Bari, a quelli di Napoli, a quelli dell'Abruzzo a far approvare lo statuto siciliano? Serve! Perché con l'approvazione dello statuto siciliano noi abbiamo un ancora di salvezza per tutto il sud. E vi spiego perché. Un altro dei principi statutari del partito meridionalista è la creazione di uno stato in Italia confederale. Dove noi ci autogestiamo. Non federale come la vuole Salvini. dove voi lavorate, i soldi li date a me. No, non è così. I soldi devono rimanere nel posto dove si producono. E quindi a questo punto la produzione del sud deve rimanere al sud. In un'Italia confederale. Di tipo svizzero. Dove faccio l'esempio della Svizzera perché noi ci rifacciamo a quel tipo là hanno solo rappresentanti di ogni cantone a rappresentarli all'estero. Quando c'è una modifica da fare alla Costituzione perché la loro Costituzione è una Costituzione viva giovane che si ringiovanisce quindi una modifica alla Costituzione una nuova legge Sti quattro pinko pallino non si mettono lì in camera caritatis e fanno i comodi loro ti sbattono questa legge e da domani dovete fare così. No. Loro indicano un referendum dove tutto il popolo partecipa della Svizzera approvando o non approvando quella legge. Quindi nello Stato svizzero noi vogliamo soprattutto prendere ad esempio il discorso che lo Stato svizzero mette il popolo al centro del governo dello Stato quindi è il popolo che decide cosa fare e cosa non fare non come siamo adesso in Italia questa è una dittatura oligarchica oligarchia vuol dire di più partiti di più fazioni non una dittatura di un solo partito di una sola persona ma una dittatura di più persone che apparentemente s'azzuffano fra di loro e invece no tutti insieme vanno contro il popolo specialmente quello del sud e si è visto con l'epidemia cosa è successo questa è un'altra cosa che ve ne parlerò un altro giorno quindi ecco perché a noi serve lo Statuto Speciale Siciliano per aiutarci a creare uno Stato confederale dove andrà a favore di tutto il popolo lo so che alcuni dicono no ma la Sicilia è così i siciliani dicono no ma quelli della Campania quelli della Puglia sono così allora noi la pensiamo in questo modo chiunque voglia il bene del proprio popolo contro l'oligarchia italiana è benvenuto adesso pensiamo a salvare il popolo poi pensiamo al resto se è vero che ci sono queste divisioni non è un problema invece di fare una macro regione del sud ne faremo due ma insieme collaboriamo questo è il principio il bene del popolo signori miei noi possiamo vivere di eolico e grazie all'eolico ad Orta Nuova in provincia di Foggia c'è una grande industria di ossi idrogeno idrogeno per autotrazione per tutto il resto diremo addio al petrolio per spostarci non con le auto per adesso perché diciamo che il macchinario per farlo funzionare con le auto ha bisogno di un volume grosso quindi le auto sono più piccole non ce la possiamo fare poi dobbiamo più che altro andrebbero bene per treni per camion insomma per tutti i grossi le grosse macchine che si spostano anche le navi anche le navi le navi sono fra le più i più grandi inquinatori del mare qui dobbiamo risolvere i problemi dell'occupazione con questo sistema il problema è quasi risolto dobbiamo incentivare l'agricoltura dobbiamo aiutare il terzo settore cioè il volontariato a non essere gli schiavi di chi se ne approfitta quindi cosa vi posso dire più che altro sono passati già troppi minuti quindi vi sto stancando signori miei il partito meridionalista è con il popolo quindi è con voi è con noi buona giornata grazie a tutti grazie a tutti